Le garzette bianche abitano sui corsi d'acqua dell'America centrale e meridionale. Questa coppia della Florida ha tre piccoli. Si dividono il compito di crescerli. A turno controllano le basse paludi, infilzano piccoli pesci e crostacei e portano il cibo al loro nido. C'è una cosa che sembra non interessabile. Quello che fanno i piccoli a casa. I due più grandi stanno diventando più forti e aggressivi. Mentre il più giovane si indebolisce. All'inizio i più grandi si limitavano ad allontanarlo, ma adesso hanno iniziato a beccarlo e a fargli male. La mamma è proprio lì. Interverrà? No, fa finta di non vedere. Per questi genitori, tre uccellini sono troppi da sfamare quest'anno. Quindi lasciano che siano loro a risolvere il problema. Ai genitori non interessa, ma a qualcun altro sicuramente sì. Le prove vengono eliminate. La madre e il padre fingono che non sia successo nulla. L'omicidio in famiglia passa inosservato. Occ soldieri non interessa l'euro. O Che A 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 B